Il Governo regionale, attento alle emergenze del territorio, vuole dare risposte immediate, soprattutto a una categoria come quella degli agricoltori. Quest'anno, particolarmente colpita dalle scarse piogge nelle aree di Caltanissette e Catania, queste le parole dell'assessore regionale all'agricoltura Luca San Martino, così come si legge dal sito della regione siciliana. I danni per alcuni comparti sono stati ingenti, aggiunge, per questo è stato avviato l'iter per chiedere lo stato di calamità. Si fa riferimento ai danni registrati tra gennaio e luglio alle produzioni agricole pari a circa 74,5 milioni di euro nei comuni di Acquaviva Platani, Bonpensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Sera di Falco, Sommatino, Sutera, Vallelunga, Pratameno e Villalba. Il sito precisa anche che è stata ratificata dall'aggiunta regionale anche la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità per la provincia di Catania, precedentemente approvata si legge con un decreto del presidente. Una notizia che è stata accolta favorevolmente dal territorio nisseno, diversi infatti commenti a tal proposito, come nel caso del consigliere comunale nisseno nonché capogruppo della Lega Oscar Aiello. Aver accolto le istanze degli agricoltori nisseni che a causa della siccità di quest'anno hanno potuto raccogliere solo due giorni a fronte dei venti dell'anno precedente, sottolinea, è un buon segnale di concreta vicinanza dell'assessore San Martino al comparto agricolo della provincia di Caltanissetta, che aveva bisogno di risposte rapide. Sulla questione abbiamo chiesto il parere anche della Coldiretti di Caltanissetta. Intanto è un segnale che dà il nuovo governo della regione siciliana, il presidente Schifani e l'assessore San Martino, che ringraziamo per l'attenzione a pochi giorni, due giorni dall'insediamento del nuovo governo, dare un segnale di questo tipo ha un suo valore, è una cosa importante, quindi ne prendiamo atto. Ci aspettiamo naturalmente che poi vengano adottati i provvedimenti conseguenziali a livello nazionale. Abbiamo avuto cali di rese un po' dappertutto, per cui tutti i prodotti, ne faccio un esempio banale, uno di quelli che ha avuto le conseguenze più nefaste, ma anche perché c'è stata una problematica legata al mercato, è stato quello dell'uva da tavola. Abbiamo avuto dei cali di rese, ma poi il prodotto è rimasto invenduto sulla pianta. Ci sono interi areali dove la produzione è diminuita del 15-20%, e quindi il danno è stato un danno importante, importante anche in alcuni casi alle piante. Dobbiamo anche dire che la produzione che ne è venuta fuori, per esempio per alcuni settori come l'olivicolo, ma la stessa Italia, il vitivinicolo, è una produzione di elevata qualità. Quindi speriamo almeno che in questi campi, visto che per esempio nell'olio c'è almeno il 40% di produzione in meno, a livello nazionale si possano spuntare dei prezzi un po' più alti. Ecco, bisogna raccomandare al consumatore di andare a comprare la qualità. Intanto si valutano le soluzioni per affrontare il cambiamento climatico e le possibili emergenze future. Siamo ormai, siamo davanti ad una ripetitività di eventi che abbiamo visto per esempio nel nord, hanno portato alla devastazione interiare. Ora, se dovessimo pensare che dobbiamo andare a richiedere interventi di soccorso in una situazione di questo genere, siamo consapevoli del fatto che purtroppo non potranno arrivare a tutti gli agricoltori italiani. raccomando sempre di cominciare a pensare che l'attività, per esempio, assicurativa può essere importante, così come le buone pratiche sono importanti. Però è chiaro che siamo sotto il cielo, il clima sta cambiando. Siamo davanti ad una ipotesi di riprogrammazione addirittura di periodo di ricoltura. Siamo davanti ad un momento importantissimo. Di questo, per esempio, dibatteremo al prossimo Villaggio Valdiretti di Palermo, 2, 3, 4 dicembre, al quale invito tutti i cittadini...